Corciano al voto, oggi il Movimento 5 Stelle presenta la candidata Chiara Fioroni, quali sono le priorità per il Comune di Corciano? Noi dopo 5 anni di opposizione ci candidiamo a guidare la comunità di Corciano come un'alternativa di cambiamento reale alla presente amministrazione. Vogliamo quindi la nostra idea di Comune, il nostro progetto è quello di un Comune che si prende cura di tutti e sottolineo tutti i suoi cittadini, che rimette al centro delle azioni amministrative, quindi le esigenze concrete quotidiane delle persone e sottolineo di tutti i cittadini e tutte le associazioni che a vario titolo operano sul territorio di Corciano. Rimettendo al centro dell'azione amministrativa quello che è l'interesse pubblico. Parte dunque la campagna elettorale, cosa vuole dire agli altri candidati qui a Corciano? Sicuramente un in bocca al lupo a tutti, la lotta comunque sarà dura perché noi faremo di tutto per dare alla nostra comunità un'alternativa seria, capace di cambiamento e di rinnovamento dell'amministrazione comunale. Grazie.